Quali sono gli accessori più strani per chi gioca i TCG? Quali saranno le caratteristiche che li renderanno così atipici e alla fine dei conti potranno tornare utili a chi gioca? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Durante la mia esperienza con il mondo dei giochi di carte collezionabili, nata ben 23 anni fa, di accessori ne ho provati molti e alcuni hanno occupato un posto speciale nel mio personale Olimpo, mentre altri, purtroppo la maggior parte, sono stati scaraventati senza esitazione nel sempiterno zolfo. Ma erano tempi i miei dove questo, sì avete visto bene un semplice elastico, rappresentava il deck box più sicuro mai realizzato. Ovviamente le carte che hanno fatto parte del deck in questione oramai appartengono al passato, danneggiate irrimediabilmente dall'utilizzo incessante che ne facevo quando ero un giovane arconte che lanciava Pokémon sul terreno di gioco per umulare Ash nella serie animata. I tempi poi sono cambiati rapidamente e col passare degli anni hanno iniziato a far capolino i primi deck box di plastica della Ultra Pro, fino ad arrivare alle odierne corazzate della Game Genic, della Ultimate Guard e compagnia Bella, che al loro interno possono ospitare un numero enorme di carte. A volte però capita che la tecnologia, la meccanica e l'ingegneria possano entrare in contatto col mondo degli accessori utili per i TCG e quando ciò accade escono fuori dei capolavori che personalmente quando li ho visti per la prima volta sono rimasto letteralmente sorpreso. E quindi tra un assortimento di oggettistica strana ho deciso di sceglierne tre che a loro modo andranno a formare un bundle utile a chiunque vorrà dare un tocco in più alla propria strumentazione di gioco. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del CROGIOLO, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community, basta un singolo clic. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i tre accessori più strani per chi gioca ai TCG. Andiamo a dargli un'occhiata. Il Satin Tower è, a detta di molti giocatori, uno dei deckbox più rinomati e solidi attualmente in mercato. Con il suo design minimale, questo accessorio ha colpito per la capacità di resistere agli urti e nel garantire una sicurezza come mai viste fino ad allora, tenendo al sicuro il o i deck in esso contenuti. A coronare il tutto c'è stata la presenza di un settore ben definito alla base dell'articolo, dove dadi e segnalini vari potevano trovare posto pronti ad essere utilizzati all'occorrenza. Negli ultimi anni però la Ultra Pro ha deciso di troncare quest'ultimo compartimento dando vita al Satin Cube, che è semplicemente la parte superiore del tower, garantendo anche in questo caso un sistema di chiusura clip degno di nota. Ma non contenti di tutto ciò, qualche appassionato di tecnologia ha proposto di dare un tocco in più al prodotto di punta della casa americana, non solo restituendogli ciò che gli avevano tolto, ovvero il cassetto per i token, ma aggiungendogli anche un ulteriore piano, che, se utilizzato a dovere, potrà offrire un'esperienza di gioco mai provata prima d'ora. Infatti dalla fusione del Satin Tower ed una cassa Bluetooth è nato il Satin Tower Boombox, che è come un semplice Satin Tower ma con una cassa per trasmettere musica, audio di video presenti nel lettere e messaggi vocali incorporata. Collegare il vostro dispositivo al Deckbox sarà semplicissimo. Vi basterà accendere il Satin tenendo premuto per 3 secondi il tasto ON, attivare sul vostro cellulare il Bluetooth e cercare tra le varie fonti quella che prende il nome di YX-22. Quindi selezionandola il Tower emetterà un suono di conferma e il gioco sarà fatto. Potrete quindi trasmettere le vostre canzoni preferite durante una partita amichevole o semplicemente ascoltare un video dell'Arconte dove spiego le regole di un determinato gioco di carte collezionabili per avere sempre a vostra disposizione un accessorio che oltre al mantenere al sicuro i vostri mazzi con token annessi creerà la giusta atmosfera per farvi godere un match nella maniera più rilassata possibile. E poi voi che magari giocate a Pokémon provate ad immaginare dopo la stretta di mano con il vostro avversario di far partire un match con questo motivetto. Arconte ma funziona solo con il Bluetooth? Assolutamente no! Infatti potrete inserire al suo interno anche una scheda micro SD o addirittura collegare il vostro dispositivo mobile Android attraverso il cavo jack da 3,5 mm. Con Apple invece avrete bisogno di un adattatore lightning così se avrete delle canzoni precedentemente scaricate ed inserite nella sezione musica del vostro cellulare potrete ascoltarle. In più ci saranno due porte una micro USB e l'altra USB 2.0 che saranno unicamente in entrata ovvero dedicate alla carica dell'articolo e nient'altro. Nella parte superiore invece oltre al tasto on che fungerà anche come play pausa per la musica se premuto velocemente saranno presenti i tasti multifunzionali, traccia musicale indietro se premerete velocemente il tasto e abbassa volume se manterrete il tasto premuto a lungo, traccia musicale avanti se premerete velocemente il tasto e alza volume se manterrete il tasto premuto a lungo e la funzione mode che vi permetterà di selezionare la modalità di ascolto switchando tra il bluetooth e la scheda micro SD a seconda della fonte di ascolto che preferirete utilizzare. Per la cavetteria saranno presenti all'interno dell'articolo sia il cavo di ricarica USB 2.0 micro USB che il cavo jack jack con attacco 3,5 mm assieme alle istruzioni d'uso che vi torneranno utili per far funzionare questo accessorio nel migliore dei modi. Che dire un vero e proprio gioiellino che incuriosirà i vostri rivali e darà un tocco di atmosfera in più alle vostre partite immergendovi nel vivo della lotta. Ultimo fattore ma non per importanza sarà la sicurezza. come ogni satin che si rispetti una volta inserito tutto il necessario al suo interno e chiuso ogni compartimento sarà difficile che il contenuto fuoriesca andando a finire accidentalmente a terra. Si sta parlando comunque di un satin tower quindi ci sta che la garanzia della chiusura clip sia rimasta invariata. Quindi da qui a qui perfetto mentre per la parte della cassa non farei un test di caduta o pressione per due semplici motivi. È comunque una cassa bluetooth che con una caduta potrebbe vedere il salto di qualche connettore e la compromissione della qualità audio. Mentre parlando della graticola che avvolge la stessa cassa essendo fatta di alluminio con una pressione potrebbe andare a deformarsi coinvolgendo e danneggiando in seguito la parte interna. Quindi non ho la minima intenzione di salirci sopra per poter testare se riuscirà a sorreggere 90 o più chili. Semplicemente basandomi solo ed unicamente sul tatto vi dico che non potrà. Cosa che invece il vecchio satin poteva e può tuttora fare. Ma qui si sta parlando di un accessorio pensato e sviluppato unicamente allo scopo di resistere e proteggere. Mentre in quest'altro caso sì resistere e proteggere ma anche divertire. Insomma oltre che a mantenere il bottino al sicuro con il boombox potrete anche creare le giuste colonne sonore per le vostre imprese. Conclusioni. Il satin tower sarà disponibile al pubblico ad un prezzo indicativo di 39 euro e 90. Si tratterà di un semplice satin tower con integrata sulla parte superiore una cassa bluetooth. Potrà contenere più di 100 carte con doppia bustina avvalendosi inoltre del tipico compartimento nella parte bassa dell'articolo che sarà dedicata ai token necessari da utilizzare durante le vostre partite. La cassa potrà trasmettere come già detto attraverso bluetooth collegandosi al dispositivo mobile in vostro possesso in modo rapido e semplice. Avrà la possibilità inoltre di collegarsi al cellulare anche attraverso un cavetto jack da 3,5 mm e di trasmettere musica in modo autonomo attraverso l'inserimento di una scheda micro sd nell'apposita entrata. Dotata di due porte usb input una micro e l'altra 2.0 potrete dare la carica necessaria al deck box che sarà pronto a fornire il giusto sottofondo musicale per il vostro prossimo incontro. La resistenza dell'intera struttura sarà come sempre impeccabile fino a che si parla di Satin Tower. Salendo invece nella parte del boombox è una cassa a tutti gli effetti quindi sarà suscettibile a cadute e oppressioni perciò prestateci attenzione. Quindi alla luce di tutto ciò converrà acquistare questo prodotto? La risposta è sì personalmente amo questo accessorio perché fino ad ora ovunque lo abbia utilizzato anche durante i tornei ufficiali ha stemperato quella situazione di tensione che si creava di solito prima dell'inizio di un match rendendo gli incontri che ne sono seguiti rilassati e all'insegno del gioco corretto della sana competizione e del divertimento. Ora arriviamo ad uno degli accessori che più di tutti mi ha incuriosito non solo per la sua costruzione ma soprattutto per la sua versatilità. A primo sguardo cosa vi sembra? Ebbene se siete tra quelli che non hanno ben compreso la reale natura di questo prodotto bene non preoccupatevi è del tutto normale anche io nei primi attimi ci ho dovuto riflettere un po' prima di capire effettivamente di cosa si stesse trattando. Il dice scroll della ultra pro sarà un accessorio che per i giocatori che amano lo stile minimale rappresenterà una vera e propria rivelazione. La chiusura dell'articolo sarà rappresentata da un semplice laccio che arrotolato attorno alla struttura principale di forma conica manterrà le due parti del dice ben adiacenti tra loro. E sarà proprio slacciando la chiusura che potrete usufruire delle appena menzionate due parti dell'accessorio che vedranno un matti in microfibra di colore grigio ed un compartimento dedicato a dadi e segnalini. Il tappetino potrà svolgere due funzioni ben distinte. La prima ragione per la quale è stato pensato principalmente vi permetterà di utilizzarlo come lanciadadi avendo sempre a vostra disposizione una zona specifica che potrà tornarvi utile durante le fasi di un match. La seconda funzione invece vedrà questo spazio essere utilizzato come playmat per proteggere gli elementi presenti nel vostro mazzo dallo sporco residuo depositatosi sui tavoli da gioco. Si parlerà comunque di uno spazio piuttosto ridotto che ovviamente non si adatterà a qualsiasi TCG presente in mercato. Parlando per esperienza sicuramente Magic the Gathering a seconda del deck che utilizzerete come nel mio caso nello specifico che di solito gioco mazzi veloci come lo sparo. Pokémon reinventandosi la disposizione delle carte sul terreno mantenendo comunque fede al regolamento. Keyforge dove potrete sbizzarrirvi nel posizionare i servitori, artefatti, unico e quant'altro come vorrete. E la variante Speed Duel di Yu-Gi-Oh! si sposeranno perfettamente con l'utilizzo di questa parte di accessorio. Lo scompartimento per dadi e segnalini invece avrà una propria chiusura zip ben realizzata e scorrevole che una volta aperta vi darà accesso allo spazio interno dove potrete inserirci tutti i token necessari per giocare al meglio al vostro o ai vostri giochi di carte preferiti. Sulla confezione del mat troverete scritto che questo settore potrà contenere più di 20 dadi utili per i vari RPG ma avendolo provato anche in questo senso a meno che non abbiate dadi fuori misura posso assicurarvi che ne potrà ospitare molti di più. Con finitura similpelle esterna e come già detto in microfibra di colore grigio nella parte interna del mat questo accessorio si presenterà elegante, ben realizzato e pronto per essere sfoggiato in tutto il suo splendore durante una sessione di gioco di ruolo assieme alla vostra compagnia o durante un torneo locale o di entità maggiore. Non mancherà comunque il marchio della casa madre che non sarà invasivo a livello ottico essendo trasparente e immarchiato a caldo direttamente sulla parte esterna del prodotto visibile in modo chiaro solo se passato in controluce. A livello di robustezza come già detto questo articolo è stato ben realizzato e il materiale che lo costituisce ne consentirà sicuramente una longevità niente male. Anche se lo sottoporrete a pressione e piegamenti la sua integrità non ne risentirà poi così negativamente. Certo è che non avendo una chiusura chissà quanto forte a forza di strattonarlo sarà inevitabile che il laccio verrà via srotolando il mat ma non sarà un problema dato che ci sarà un'ulteriore barriera rappresentata dalla zip a mantenere il contenuto che avrete inserito nell'apposito spazio al suo interno ed una volta utilizzato potrete riporre i vostri dadi o segnalini all'interno dell'astuccio, chiudere la zip, arrotolare il tutto, stringere l'intera struttura attraverso il laccio e il dice scroll sarà pronto per essere inserito all'interno dei vostri zaini o strumenti di trasporto che più preferirete. Piccolo, compatto e soprattutto polifunzionale. Conclusioni. Il dice scroll sarà disponibile al pubblico ad un prezzo indicativo di 19,90€. fornirà la possibilità di essere utilizzato come lanciadadi durante una ruolata assieme ai vostri compagni di avventura o mini playmat per mantenere puliti gli elementi del vostro deck dallo sporco residuo presente sui tavoli da gioco durante un match amichevole o un torneo competitivo. Il compartimento con chiusura zip dedicato ai dadi e o token potrà ospitare più di 20 unità per la prima categoria ed un numero variabile di segnalini a seconda del TCG o GDR di riferimento. Ci sarà comunque sufficiente spazio per riuscire a portare con voi tutto il necessario atto a migliorare la vostra esperienza ludica. Il suo aspetto che vedrà una finitura similpelle all'esterno ed una superficie in microfibra all'interno conferirà a questo accessorio un aspetto elegante che potrete sfoggiare durante le vostre sessioni di gioco. Quando avrete finito di utilizzarlo una chiusura al laccio anch'essa con texture similpelle vi permetterà di avere a vostra disposizione un accessorio che a riposo occuperà uno spazio minimo all'interno del vostro strumento di trasporto. Anche se esposto a pressioni e stress l'intera struttura reggerà senza problemi garantendo che il contenuto non fuoriesca accidentalmente. Quindi alla luce di tutto ciò converrà acquistare questo prodotto? La risposta è sì. Personalmente quando non ho abbastanza spazio nello zaino porto questo accessorio con me per utilizzarlo come playmat di gioco con molta fantasia devo ammetterlo. In più risulta essere anche un valido elemento salva spazio avendo a sua disposizione il compartimento per i token che vi permetterà di lasciare a casa scatole e scatolette che altresì occuperebbero delle zone che potrebbero essere dedicate al trasporto di altri deck. Ottima soluzione ultra pro, accessorio più che consigliato. Arriviamo infine all'ultimo elemento di questo tris ovvero questo cubo interamente fatto di legno. A cosa potrà mai servire? Ebbene se vorrete unicamente dedicare lo scompartimento del dice scroll ai token e sarete alla ricerca di qualcosa di specificatamente pensato per contenere i dadi questo accessorio farà al caso vostro. Il dice keeper della U-Gear si presenterà smontato. Avete capito bene smontato. Infatti dovrete essere voi stessi pezzo dopo pezzo a montare questo accessorio. All'interno della scatola infatti oltre che ai telai di legno con incise le parti da staccare ed assemblare troverete anche due elastici, un foglietto di carta vetrata a grana fine ed un pezzo di cera. Per assemblare l'intera struttura in modo corretto ci saranno nelle istruzioni alcune leggende da seguire come ad esempio l'inceratura di una determinata parte meccanica. Il controllo della posizione corretta di un certo componente nel mentre si procederà all'assemblaggio. La possibilità di staccare o tagliare uno specifico elemento presente nella confezione. L'avviso che durante il montaggio alcuni ingranaggi o parti presenti nella confezione dovranno muoversi facilmente senza intoppi. La segnalazione della presenza di parti non utili al completamento dell'articolo ma unicamente pensati per facilitarvi il compito durante la realizzazione ed i pezzi di ricambio se accidentalmente durante l'assemblaggio vi ritroverete a dover affrontare delle rotture. Dopodiché dovrete solamente seguire le istruzioni e divertirvi durante la realizzazione. Ed ecco qui che alla fine del lavoro se avrete seguito le istruzioni alla lettera avrete tra le mani il dice keeper assemblato e pronto per essere utilizzato ma scopriamo più da vicino come sarà fatto. Il keeper potrà darvi accesso al suo contenuto attraverso due piccoli battenti che se tirati verso l'esterno attraverso gli ingranaggi che muoveranno le parti semoventi dell'intera struttura mostreranno due compartimenti ben distinti ed uguali tra loro. Ogni lato avrà la possibilità di contenere fino a quattro dadi di misura standard al suo interno. Quando chiuderete l'articolo le dentellature integrate al mascherone che fungerà da decoro si ancoreranno alla parte superiore dell'accessorio garantendo una presa salda che eviterà aperture accidentali dovute a strattoni. E potrete continuare a shakerare questo prodotto quanto vorrete. Tutto ciò che sarà contenuto all'interno dei quattro compartimenti resterà al sicuro e non si perderà in giro ogni volta che uscirete per affrontare le vostre avventure. In più per assicurarsi che realmente l'intera struttura sia ben salda una volta chiusa la U-Gear ha inserito anche una sicurezza a pressione che se utilizzata bloccherà il sistema di ingranaggi interno che non permetterà ai portelli di aprirsi. Per sbloccarla e ripristinare il regolare movimento delle varie parti del keeper non vi basterà altro da fare che capovolgere l'accessorio a testa in giù e applicare una leggera pressione sulla parte centrale della struttura. E così facendo manterrete i vostri dadi da competizione al sicuro e all'interno di una custodia dedicata di tutto rispetto e anche bella a vedersi. Ultimo, ma non per importanza, vedrà anche la presenza di un segnapunti universale all'interno della scatola che attraverso dei semplici passaggi vi darà la possibilità di avere a disposizione un accessorio utile in più che potrà accompagnarvi in ogni match. Questo è di sicuro uno degli oggetti che più ho apprezzato in tutta la mia esperienza oramai ventennale nel mondo dei TCG. Non perché sia strutturalmente forte. A proposito di questo, sì, lo è, ma entro dei limiti. È comunque legno laminato che con una discreta pressione potrebbe danneggiarsi irreversibilmente distruggendo l'intero accessorio e non permettendovi più di utilizzarlo. Quindi trattatelo con cura. Non la massima cura, non deve stare sotto una campana di vetro, per carità. Ma stateci comunque attenti, ma perché l'ho costruito personalmente. E quando qualcosa esce fuori dal proprio operato, beh, inevitabilmente ci si affeziona. O almeno per me è così. Poi, essendo anche un fan sfegatato dei mattoncini Lego, per me seguire le istruzioni e vedere a poco a poco il prendere forma di questo articolo ha risvegliato in me il bambino che passava giorni interi a creare sempre nuovi mondi con le costruzioni danesi. Conclusioni Il Dice Keeper sarà disponibile al pubblico ad un prezzo indicativo di 13,90€. Completamente fatto di legno, questo accessorio dovrà essere montato per conto vostro, seguendo le istruzioni contenute nella confezione dell'articolo. Una volta costruito, esso attraverso due aperture mosse con degli ingranaggi interni vi permetterà di inserire al suo interno fino ad otto dadi di misura standard, quattro per lato. La sicurezza delle chiusure permetterà al contenuto di non fuoriuscire accidentalmente e a supporto di ciò sarà presente integrato nella struttura anche un'ulteriore sicurezza a pressione che bloccherà gli ingranaggi impedendo che i battenti si aprano. Strutturalmente non sarà resistente essendo costruito con legno laminato e ciò dovrà farvi prestare attenzione a cadute accidentali e pressioni che potrebbero irrimediabilmente comprometterne la solidità. Incluso con l'acquisto ci sarà anche la presenza di un segnapunti che potrà tornarvi utile durante le partite. Di aspetto fantasy, con qualche tratto di gotico, questo accessorio sarà l'elemento che fornirà un tocco di originalità alle vostre sessioni di gioco. Quindi alla luce di tutto ciò, converrà acquistare questo prodotto? La risposta è sì! Se sarete dei giocatori dove i dadi saranno una parte fondamentale dello svolgimento di un match, questo articolo non potrà mancare, soprattutto se sarete appassionati come me di Lego e vorrete unire il divertimento durante l'assemblaggio con il possedere a lavoro ultimato il vostro portadadi personale. E lo dico perché in questo caso sarà proprio il vostro, fatto da voi. Un trist di accessori che segue di certo un suo canone ben preciso, il divertimento e l'appariscenza. Con questo trittico a vostra disposizione, di certo non passerete inosservati e allo stesso tempo divertirete chiunque sarà presente in loco trasformandovi nell'anima dell'evento, alleggerendo il clima e spingendo ogni singolo partecipante che incontrerete ad affrontare un match all'insegna del sano divertimento. Come sempre, tutti gli articoli che abbiamo preso in esame in questo contenuto sono stati testati e spinti al limite delle loro potenzialità. O quasi. E per acquistare la vostra copia personale, non vi basterà altro da fare che cliccare sui link che vi lascerò in descrizione. E voi, quali dei seguenti accessori vi piacerebbe avere al fianco durante una delle vostre partite? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.